L'età adolescenziale è un'età importantissima, uno perché si devono fare dei richiami di alcune vaccinazioni fatte nella prima infanzia che hanno bisogno di essere rinforzate per poter mantenere l'immunità nel corso dei decenni successivi. Parlo della difterite, tetano, pertosse, morbillo, varicella, quindi avere quella copertura che innanzitutto vaccinare in quell'età anche chi è sfuggito alla vaccinazione della prima infanzia per tutti gli altri invece dare questa dose di richiamo che è fondamentale per mantenere questa immunità nei decenni successivi. E poi perché l'età in cui si possono fare delle vaccinazioni nuove come quella per il papillomavirus, vaccinazione che da qualche anno viene fatta in tutta Italia e che proprio è indicata per le ragazzine in 12 anni, quindi prima dell'età sessuale, della maturità sessuale. Ma è un'età anche importante in cui nelle scuole si possono fare quei necessari interventi di promozione delle vaccinazioni così come di promozione della salute in generale e dei stili di vita. Quindi quella è un'età molto importante in cui la sanità pubblica deve intervenire con l'aiuto delle scuole che sono un'occasione fondamentale poter avere genitori, insegnanti e ragazzi ad ascoltare quello che sono importanti i presidi di prevenzione.